Salve, buongiorno, è una parola che ti prende per mano e ti accompagna per tutta la giornata. Buongiorno è una parola giovane e fresca, come giovane e fresco è il mattino. Buongiorno è la parola carica di speranza che risveglia l'anima. Buongiorno è come dire sono contento di vederti e ti auguro 24 ore di gioia e di pace. Allora diamo un buongiorno a tutti, sincero e cordiale. Buongiorno ai genitori, agli insegnanti, ai vigili, al postino, agli operai, ai pensionati. Chi al mattino si senta volto da tanti buongiorno, trova più facile essere grintoso e generoso. Con questo auspicio anch'io dico a te buongiorno, ciao. Chi al mattino si senta volto da tanti buongiorno. Ecco, chi al mattino si senta volto da tanti buongiorno. Grazie a tutti.